Siamo qui con il capitano Alessandro Neccioni, due gol all'esordio, si ricomincia il campionato come abbiamo finito lo scorso anno, sensazioni per questa prima partita in Coppa Italia? È stata una bella partita, abbiamo visto un buon lavoro di squadra, ci alleniamo da poco tempo insieme, soltanto una decina di giorni, è un gruppo nuovo perché ci sono tante ragazze che vengono da fuori che però fanno sentire il loro peso, quindi siamo contenti, io personalmente sono contenta per i due gol ma finché la squadra fa bene l'importante è questo, chi ben comincia è a metà dell'opera si dice, dobbiamo continuare su questa linea e avanti tutta. Fra due domeniche ritorno in casa dell'Arezzo, il risultato 5-0 è abbastanza confortante, come affronterete questa partita? Sicuramente abbiamo un bel margine però noi dobbiamo andare là molto concentrato, abbiamo due settimane importanti di lavoro, bisogna trovare schemi, conoscerci meglio tra di noi e soprattutto bisogna prepararci alle partite che verranno dopo, sia di campionato sia di Coppa, quindi insomma non abbasseremo la concentrazione. Siamo con Elisabetta Zona, nuovo acquisto della Florenzia, prima partita, prima vittoria, esordio positivo, come hai vissuto questa partita con la Florenzia? Vabbè esordio positivo perché abbiamo vinto, sicuramente il campo ha fatto vedere che dal mio punto di vista c'è tanto da lavorare, abbiamo un anno davanti quindi esordio positivo e lavoreremo per migliorare le cose sbagliate che abbiamo fatto. Le tue sensazioni sul primo gol? Vabbè è sempre bello segnare, poi per fortuna ne ho fatti diversi, quindi è un gol in più, sono contenta di averlo fatto oggi alla prima partita, però l'importante come dico sempre è il risultato finale, non il gol personale. Con Filippo Rigio, allenatore in seconda della Florenzia, prima esperienza anche lui sulla panchina rosso-bianca, sensazioni dal punto di vista tecnico-tattico di questo esordio della Florenzia in Coppa Italia? Bene, bene perché abbiamo mosso bene la palla, abbiamo provato a giocare a calcio per quel che poi è stato possibile, perché abbiamo le gambe pesanti, c'è stato molto lavoro e poco tempo a disposizione, però i ragazzi hanno fatto davvero bene pur non conoscendosi ancora al 100%. L'avversario magari poteva darci un po' più filo da torcere, però noi abbiamo giocato veramente bene, ma ancora c'è molto da lavorare, c'è molto da lavorare e molto da impegnarsi per giocare veramente bene, perché più si va avanti, soprattutto in Coppa Italia, più le avversarie possono essere insidiosi. Perfetto, grazie mille a Filippo, ci vediamo fra due domeniche ad Arezzo.